Le sofferenze bancarie non possono essere scaricate sui lavoratori. Il grido di rabbia e dolore che si leva da Firenze ha la voce dei 200 bancari che nel giorno del primo sciopero nazionale della categoria da 13 anni si sono trovati sotto la sede della prefettura per protestare contro la decisione dell'ABI, l'associazione delle banche italiane, di disdettare con 10 mesi d'anticipo il contratto nazionale. Scelta che potrebbe poi tradursi in un taglio del 10% circa dei posti di lavoro che in Toscana significa 2000 persone ma non solo. Il 31 ottobre infatti scade il nostro fondo esodo di settore che è la garanzia, è il paracadute che ha permesso a tutta la categoria finora di far uscire 50.000 colleghi e lavoratori senza che la collettività ne avesse carico. Un fondo cofinanziato da dipendenti e banche, unico ammortizzatore sociale del settore che assicura anche il ricambio generazionale e l'ingresso dei giovani in filiale. Ma la giornata di mobilitazione, dicono dal presidio, serve anche ai dipendenti per prendere le distanze dai 140 miliardi di euro di sofferenze bancarie. Le sofferenze che in questo momento stanno mettendo a dura criticità i nostri bilanci sono create da prestiti da 500.000 euro in su. Nessuna filiale eroga queste cifre, sono i direttori generali in su. Anche per questo i bancari chiedono che venga messo un tetto agli stipendi dei top manager.